Ciao Stelline, oggi vi mostrerò un'invenzione di mio padre, che è creato per venire qua in spiaggia con tutta la roba. Eccolo lì. Adesso inizia a togliere la roba. Questa è un'invenzione di mio padre, che si scusate. Cosa. Cosa. Grazie. Cosa. 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 Non mi pare di fare. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.